Ancora Luca Braidot, ancora Martin Lowe Qui siamo sulla discesa dei tronchi, una discesa che farà la differenza Questa terra, questa terra farà la differenza, ancora avere un buon grip Live si stanno alternando L'ombra e ancora tantissimi cambi di forze implicate Stanno dando anche loro di santa ragione in una sorta di sfida con se stessi Ma abbiamo detto questa salita, prima del passaggio sotto le rive, può rivelarsi decisiva Questa è la mountain bike, signori atleti fuori classe Da cinque hanno fatto scorrere il tempo Ando la sta lasciando andare, sta pennellando Non c'è neanche il tempo di mollare la borraccia Di Lu, un'ora 07, 02 minuti Ancora più esigenti dal punto di vista metabolico E non molla, vai Romo Luca Braido sta ritornando Bellissima gara anche di San Parisi Eccolo sul traguardo, non vuole mollare E anche Tiberi, Andrea Tiberi non molla Vai Joelle, forza Italia Andiamo Estone è venuto qui ad involarsi verso il successo finale Grandissimo Martin Lu, un atleta Estone Venuto a vincere E' lui che vince La tappa, Titano, Cross Country, San Marino Seconda posizione, Joelle Bertolini 1'34,08 In terza posizione, Andrea Tiberi Grazie di esservi emozionati con noi Popolo dei bikers, popolo degli appassionati Un caro saluto da Angelo Furlan E da Giancarlo Bettin Ci rivediamo a Pineta Ciao